mi trovo a villafranca perché sono venuto a trovare un bambino che si chiama marcello ciao marcello facciamo vedere marcello è nato un anno e mezzo marcello ha un anno e mezzo e un problemino alla gamba che va risolto con un'operazione importante vero vanessa marcello è nato a gennaio 2019 e alla nascita ci siamo apporti subito che aveva un problema la gamba destra e nello specifico ha il femore destro che è più corto è a metà rispetto alla gamba sinistra e questo ha causato anche una malformazione alla all'anca quindi è iniziata la ricerca di uno specialista però non c'era un percorso di cure chiaro e quindi siamo rivolti a questo grande specialista americano che è il dottor peli abbiamo incontrato a gennaio 2020 a varsavia in polonia il quale ci ha detto che riuscirà a recuperare al cento per cento la funzionalità della gamba di marcello con 5 interventi e che cosa servono a mettere i soldi dentro per la gamba di marcello filippo l'operazione per marcello è un'operazione molto cara 250 mila euro per la prima tranche per per l'anca abbiamo deciso di aprire questa onlus dal nome go marci go onlus che serve per la raccolta fondi necessaria alle spese mediche di marcello abbiamo intanto fatto partire una serie di cassette che vanno nelle nostre attività locali la onlus è stata creata appunto per accogliere i fondi per marcello ma anche per dare un esempio ad altre famiglie italiane non solo che si trovano nelle nostre condizioni quindi malformazione e gli arti per i bambini sono partite diverse iniziative come ad esempio un torneo di bici volley e altre iniziative un concerto ad abano terme ci sarà lo spettacolo di magia cadoneghe ci sarà forse la notte bianca rubano seguiteci che a settembre abbiamo diverse iniziative ci potete trovare nella nostra pagina facebook dal nome go marci go onlus oppure su instagram con lo stesso modo marcello quando è nato vi hanno detto che l'unica soluzione era amputargli la gamba la soluzione migliore che noi abbiamo trovato è appunto questo dottore americano e andare negli stati uniti sì e allora per aiutare marci marci guarda qua guarda qua marci guarda qua saluta marci fai ciao marci fai ciao manda un bacio a marci di grazie e buongiorno mattino devi dire buongiorno mattino buongiorno mattino